Com'è in breve il fondamento dell'esistenza? Ve lo dimostro. Il fondamento dell'esistenza. Come esattamente aveva intuito Pitagora, il fondamento dell'esistenza sta nel calcolo numerico. Come esistono nei dati digitali i virus, che sono programmi viventi in autonomia, così esistiamo noi nel nostro io uguale 10, un ciclo autonomo decimale che si autorilancia. Ciascuno di noi è un programma ciclico decimale che esistendo come un autonomo virus nel sistema integrale di tutta la possibile differenziazione in valori contrapposti, puri, esistenti in un generico esserci e non esserci? Lo moduliamo a seconda dei nostri numeri 1 e 0, che diventano veri e propri strumenti, operatori matematici. Il numero 1 è assegnato alla presenza unitaria di quanto osserviamo in atto di puro calcolo, come il calcolo di n elevato a 0, che dà per risultato 1. Il numero 0 è assegnato alla presenza unitaria di quanto osserviamo in potenza di un assoluto n elevato a 0, che è assoluto perché non è determinato né nell'indice né nella generica n che non differenzia i numeri, perché possono essere tutti i numeri possibili, ad eccezione dello 0 che esiste nell'esponente. Il nostro io è intero nel ciclo della sua presenza, quando è un'onda contenente in immediata sequenza le due fasi opposte di un modo di essere che è così complesso. Una fase è in atto e si somma alla fase successiva che è in potenza. Una è 1, l'altra è 0, il che è visto nell'antilogaritmo di 1 più 0, come la presenza di un ciclo 10 interamente presente. Pertanto il ciclo 10 deriva dalla reazione logaritmica decimale, uguale antilogaritmo, al numero 1. Essa consente di trasformare a 10 l'onda 1 e 0, che associa l'essere al non essere nel ciclo di 10 unità. Noi ragioniamo usando come valore unitario la massa decima. In tal modo, ogni ragionamento, per quanto complicato e complesso possa essere, ha la stessa immediatezza di calcolo di una bilancia in grado di pesare oggetti diversi. La massa decima è il logaritmo decimale dell'antilogaritmo decimale, retto a ciclo unitario e assoluto, divino 10. In sostanza è il riscontro unitario dell'interazione azione per reazione, ossia di 10 per 10 elevato a meno 1, uguale a 10 decimi, uguale a 1. In tal modo, il valore 10, uguale al ciclo dell'unità, è assunto veramente a suo Dio da parte di ogni essere unitario. Tale Dio è un ente di puro servizio, assoluto e assolutamente imparziale. E' però, per quanto esso sia virtuale nel mondo relativo, un ente assolutamente essenziale, posto al servizio e alla giusta regolazione dell'esistenza umana reale e dell'universo oggettivo. La matematica astratta, che sembra una costruzione umana, è invece una verità in sé, che ogni Io uguale a 10 scopre infine come la stessa verità estranea che è preposta all'esistenza intima di ogni Io reale. La nostra ragione funziona pesando tutto, in modo astratto, ideale, per lettere, agganciate a numeri. E vi faccio un esempio. A partire dal termine numero. E' veramente un nome, riferito a Ro. E' veramente un nome uguale Dio nella nostra cabala mentale, in cui N uguale 12 più U uguale 19 più M uguale 11 più E uguale 5 uguale nome uguale 47 ed è 10 più 10 più 10 più 10 più 7 ossia il Dio 10 uno e trino che genera, secondo il dettato della Bibbia, un mondo in 7 giorni. Mentre la Ro R uguale 16 più O uguale 13 uguale 29 è tutto il moto 30 meno 1 di un 1 che sta nella Trinità di 10 più 10 più 10 per cui per cui la somma 47 più 29 uguale 76 uguale numero indica biblicamente l'opera intera di 7 volte il ciclo 10 e 6 giorni unitari di semplice lavoro. Come il nostro io uguale 10 infesta il sistema binario dell'esistenza fatta di opposti. L'infestazione umana è ideale e accade mediante la comprensione concettuale che impone qualità uguale quantità. Porre umanamente presente l'antilogaritmo di 1 che è 10 porta alla presenza di un tutto presente in 10 unità. Questo 10 può essere osservato e compreso simultaneamente in questi 11 modi interi e diversi. Il primo 0 a 10 è indeterminato nello 0. Il secondo 1 a 9 idealizza la massa 1 accorpata grazie allo svuotamento di 9 parti del ciclo 10 e si pone come il rapporto 1 pieno ogni 9 vuoto percorribile dall'1 nel ciclo 10. il rapporto 2 a 8 idealizza il tempo va da meno 1 a più 1 ammassato in modo complesso e si pone su 2 al cubo uguale a 8 di vuoto tanto che 2 si possa muovere per 8 3 a 7 idealizza lo spazio si tratta della terna 1x più 1y più 1z in cui ci sono tre masse decime che si pone su un 10 meno 3 uguale a 7 di spazio vuoto 4 su 6 idealizza il flusso di 1x 1y 1z la terna spaziale in un t in un tempo e si pone su 10 meno 4 uguale 6 unità di vuoto in linea 5 a 5 idealizza il calore di 3 spazio in due tempi di area trasversale e si pone su 10 meno 5 uguale a 5 di calore espresso nel senso inverso 6 a 4 idealizza la mole di più 3 massa inverso positivo e ancora un più 3 che è una massa nel senso inverso e si pone come 10 meno 6 uguale 4 tempi di presenza della massa 3 più 3 uguale 6 complesso positivo negativo 7 a 3 idealizza la candela una massa che va da meno 3 a più 3 in un tempo e si pone come intensità 1 di luce sulla massa meno 3 negativa 8 a 2 idealizza il volume della realtà complessa 2 al cubo che esiste ogni due tempi in linea regola in assoluto due tempi per cui nel relativo noi non avremo una unità a questa dimensione 9 a 1 è un rapporto che idealizza il valore c della velocità della luce nel suo quadrato ossia la dimensione 10 alla 16 metri al quadrato ogni secondo quadrato e regola essa pure in assoluto un tempo 10 alla 0 idealizza il valore assoluto dell'antilogaritmo di 1 che regola l'esponente della potenza n elevata a 0 del tutto esistente solo in potenza ora coloro che credono esistere in sé le nostre idealizzazioni sono persone di fede e non di scienza coloro che intuiscono invece una essenza assoluta e profonda alla base di tutto ci capiscono molto di più di tutti quei sapienti che credono esista di per sé quella che è unicamente una nostra visione quello che è unicamente l'infestazione del nostro io che presente come un virus all'interno del tutto indifferenziato lo presenta dopo di averlo esposto nelle sue precise determinazioni proprio come fa un virus questa è la massima differenza che esiste tra la mia posizione culturale espressa dalla nuova scuola italica di epistemologia e l'attuale criterio della scienza umana la scienza umana crede nelle condizioni oggettive poiché vede in atto una preesistenza prima dell'entrata in campo dell'uomo non arriva assolutamente a credere possibile la creazione da parte dell'uomo di un qualcosa che gli preesista mentre invece poiché tutto è determinato dal ciclo 10 quando noi proprio noi percepiamo il ciclo assoluto 10 nella forma della massa ossia di un nono e quindi dividiamo il ciclo 10 per 9 e assume il valore eterno di 1 virgola 1 1 1 1 1 che ci mostra l'eterno e infinito tempo sempre decimale di un calcolo che non finisce noi chiaramente possiamo capire che questo è il metodo umano per realizzare l'infinito attraverso un calcolo infinito in questo caso nel futuro ma se noi attuiamo nello stesso modo l'operazione inversa che partendo da un attimo qualunque di questa divisione in atto esempio 1 1 1 1 1 ottenuta dalla divisione per 9 attua il prodotto per 9 esso porta al risultato di 9 9 9 9 che si approssima al 10 e non riesce mai a raggiungerlo quando noi più spingiamo in avanti questa definizione poiché essa regola tutti i passaggi in essere del cosiddetto divenire noi abbiamo il potere di risalire all'infinito in un tempo che preceda la stessa esistenza del nostro soggetto che è l'autore di questa operazione di conseguenza noi siamo letteralmente in grado di partendo dall'assoluto 10 realizzare sia l'infinito futuro sia l'infinito passato secondo una determinazione infinita sia in un verso sia nell'altro ma sia chiaro l'autore di questa temporizzazione è soltanto il nostro io è soltanto il ciclo 10 del nostro essere intero che dividendosi secondo quel ritmo dell'unità della massa data da un decimo da un nono dividendo 10 per 9 rilancia e ottiene l'infinito tempo decimo della massa decima nel verso opposto può risalire all'infinito passato di un 9 sempre più prossimo al 10 e che mai lo raggiungerà proprio come un dio assolutamente inarrivabile come estremo del 10 che crea ma anche come l'altro estremo di un dio che arriva a definire il limite della sua divisione quindi quando l'uomo procede a una visione di tipo divisionista ossia proprio a quel sistema descritto dagli antichi romani divide e timpera e noi dividiamo il 10 per il ciclo 9 di una eterna realizzazione dell'unità otteniamo un'eterna realizzazione di un'unità decima sempre più spinta nella quale possiamo avanzare ecco così stanno le cose ma questa è soprattutto la distinzione del mio asserto nei confronti di quello della scienza io giudico da tutti i dati che sono presenti vedendoli proprio come una determinazione di tipo matematico della vita una infestazione di tipo matematico data e messa in atto da un soggetto matematico invece per gli scienziati che fortemente deridono gli uomini che facendo un cattivo uso della loro ragione arrivano a intuire Dio fanno un cattivo uso della loro ragione perché sfruttano tutto l'attributo che la nostra ragione determina nel mondo e lo considerano non un frutto soggettivo ma oggettivo in sé credono veramente a una bella storiella presentatagli dalla mente e giurano che sia vera coloro che veramente credono nell'inganno della mente sono proprio tutti gli scienziati del giorno d'oggi che credono nell'evoluzione del mondo e della specie sulla base della devoluzione del mondo e della specie perché per la valenza del terzo principio fondamentale della fisica azione e reazione noi possiamo vedere il mondo avanzare con la materia verso il futuro se l'antimateria proviene dal futuro noi possiamo semplicemente reagire a un progetto che esiste e dargli la nostra forma